La colorazione sta assumendo un ruolo sempre più importante e decisivo per la donna e quindi per l'acconciatore. Oggi c'è una nuova esigenza, così forte e sentita da creare un nuovo mercato, la colorazione naturale. Purtroppo però fino ad ora bisognava fare una scelta, o puntare sul naturale con risultati mediocri o rivolgersi alle colorazioni qualitative ma tradizionali. Da Pharmaca International nasce un metodo nuovo di concepire il colore dei capelli in modo naturale come un vero trattamento di bellezza. Flowery, la prima colorazione al mondo così delicata che ne senti anche il profumo. Flowery è stata formulata con innovative sostanze di origine naturale quali l'olio di jojoba per rinforzare e nutrire i capelli, oligoelementi estratti in acqua termale per assicurare al capello un concentrato di benessere e salute e microproteine del grano per garantire un'azione ristrutturante anche dei capelli più secchi. Flowery è totalmente priva di ammoniaca quindi non emana fastidiosi odori ma profuma di fiori e trasforma la colorazione in un momento di vero relax per il cliente migliorando la qualità della vita all'interno del salone. Flowery con la sua consistenza olio gel messa a punto negli Stati Uniti dimostra da subito la superiorità del colore in termini di lucentezza, setosità, copertura e morbidezza del colore. Flowery Perfume Oil Hair Color. Miscelato 1p1 con il suo developer specifico assicura un risultato colore mai visto prima dove protagonista è l'alta qualità cosmetica del colore in un contesto naturale di comfort e serenità che ti farà conquistare nuovi clienti. In più con Flowery Personal Color potrai personalizzare il tuo colore rendendolo unico. A tua disposizione 5 colori brillanti. Blu, Violet, Red, Yellow, Orange. Dalla formula innovativa studiata per essere miscelata non solo con Flowery ma anche con altre colorazioni sia in gel che in crema. Dalla consistenza gel e liquida e dalla delicata profumazione. La natura esclusiva di Flowery entra nel tuo salone. Una grande opportunità per affermare la tua professionalità in naturalezza. La farmaca international. Il meglio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.